Questo video è offerto da... Posso andare? Posso. Vorrei dire partita bellissima credo. Siamo stati direi assolutamente televisivi, nel senso che è stata, penso anche per chi l'ha vista a casa, non solo per i tifosi o di Avellino o di Brindisi, direi una partita veramente molto bella, molto avvincente, giocata con ottima intensità da entrambe le squadre. Devo dire da parte nostra che abbiamo iniziato un po' meno aggressivi di Avellino che ha attaccato troppo e bene la nostra area dall'inizio, poi però pian piano siamo riusciti ad aggiustarci e in particolare nel secondo tempo siamo riusciti a difendere meglio ma soprattutto anche ad attaccare meglio, muovendo molto di più la palla e i nostri percentuali di tiro sono migliorati. Quindi devo dire in aggiunta ovviamente grande carattere della squadra che è sotto di 9 se non sbaglio, 3 e poco più dalla fine, abbiamo piazzato un parziale credo di 11 a 2, 12 a 0 e che effettivamente ha veramente ribaltato la partita, ci ha dato una vittoria che volevamo fortemente perché siamo in un buon momento e sentivamo che potevamo farcela. I miei complimenti vanno comunque ad Avellino che è un'ottima squadra e d'altra parte per come ha giocato si è visto e niente direi veramente una bellissima partita, uno spot sicuramente bello per la palla a canestro. Sì, devo dire che la squadra è stato un carattere straordinario, effettivamente sai fuori casa recuperare uno svantaggio del genere a così poco della fine non era così semplice e quindi credo che effettivamente sia stata una partita dove in effetti il nostro carattere è venuto fuori. Hai ragione quando dici che effettivamente è difficile quando cambi i giocatori, inserisci i ragazzi nuovi, avere una fisionomia, però devo dire che è un gruppo sano, il nostro, dove effettivamente chi è arrivato ha sempre trovato disponibilità da parte dei compagni e quindi alla fine penso che dietro a tutto questo c'è anche un gruppo che è buono, un buon gruppo, che lavora bene, che sta bene insieme e che è capace di aiutarsi quando conta. E stasera ti devo dire che il fatto di aver ribaltato in tre minuti la partita credo che sia stata effettivamente dimostrazione del fatto che il gruppo c'è, che è un gruppo compatto, che non si molla e che dentro abbiamo qualcosa, oltre che a pugno alto, pugno basso, le difese per vincere una gara del genere ci vuole un po' di carattere e stasera penso che la squadra l'abbia effettivamente tirato fuori. Questo però è vero in parte nel senso che la squadra secondo me abbiamo di fronte una squadra estremamente atletica, cioè non è che sbagli perché sbagli. Gli sbagli molte volte sono indotti anche dagli avversari e quando hai gente come Harper, come Banks, come Anosic, Anga che sono atleti straordinari, anche se tu vai incontro 2 contro 1 e sbagli probabilmente c'è una ragione perché sbagli e sbagli 3 vuol dire che effettivamente Avellino è una squadra così atletica che ti sporca ogni tiro. Ecco perché è una partita dura oggi, perché Avellino è una squadra secondo me che atleticamente forse c'è un po' superiore in alcuni ruoli, perché le atletiche sono straordinarie, anche più alti di noi in alcuni ruoli. Banks è più alto di Denman, perché Anga è più alto di Airston, perché Harper è più alto di Del Roy e sono comunque molto atletici. Sono di Atta Games è più alto di Pullen, quindi noi paghiamo centimetti in tutti i ruoli. Quindi ci sta che gli altri ti mettono in difficoltà, ci sta che tu vai incontro e sbagli due appoggi perché gli altri saltano più di te e sono più alti di te. L'importante è che la squadra abbia invece reagito, trovato alla fine i canesti giusti per vincere la partita. Quindi sai, sinceramente gli appoggi sbagliati hanno sempre una ragione. È chiaro che anche quello che ha sbagliato Marcus, il primo dei tre, è perché ha visto arrivare dietro l'ombra, aveva pure della stoppata, ha cercato di proteggersi e l'ha sbagliato. Non è che ha sbagliato perché l'ha sbagliato, è indotto dagli avversari. Quindi ci sono anche gli avversari che ti portano a sbagliare. Quindi sinceramente penso che, come ti dicevo prima, a velino è una squadra molto atletica e ti costringerà gli errori. Ed è per questo che è una partita importante per non averla vinta, perché malgrado pagassi un po' tutti i ruoli dal punto di vista dei centimetri, alla fine si è riuscita a portare a casa una gara molto dura, molto fisica. Sì, direi che, credo che matematicamente siamo dentro, Final Eight e con Mace, niente, siamo due caratteri sanguigni. Ogni tanto abbiamo avuto una vivace discussione, però è finita lì. Ci sono stati cinque nello spogliatoio, nell'intervallo, assolutamente nessun tipo di strascico. Anzi, abbiamo, ti devo dire la verità, un po' l'ho cercato, perché il ragazzo è iniziato un po' morbido oggi. E ho cercato un po' di farlo un po' arrabbiare, perché aveva bisogno di reagire un po'. E ti devo dire che ha preso due schiacciate in faccia da Nozica all'inizio, averlo preso cinque nebassini nella nostra area, e un minimo, ho cercato anche un po' di farlo arrabbiare, di farlo reagire. Devo dirti che, non so se sono riuscito, ma sicuramente ho giocato bene alla seconda parte. Non dico che è merito mio, per carità. Però avevo voglia anche di tirargli fuori un po' di cattiveria, di svegliare un attimo. Quindi sono cose che nello sport si fanno, sono normali momenti di tensione, ma anche di provocazione per cercare di tirar fuori qualcosa dai giocatori. Ho voluto, secondo me è stata una strattonata clamorosa, mi sembra, su Michael Ehrich, proprio sul rimbalzo, sotto la vostra postazione dei giornalisti, dall'altra parte. Ho trattenuto per un braccio e non fischiato. E dovevo assolutamente, in quel momento lì, far capire agli abiti che il metro arbitrale non era corretto e soprattutto far vedere ai miei giocatori che a parare con gli abiti ci penso io, loro devono pensare a giocare. E quindi l'ho voluto prendere quel tecnico, uno, per dimostrare che l'abitragio non era in quel momento corretto, secondo, per far sì che i giocatori pensassero a giocare invece che a parlare. Permettetemi un saluto ai tifosi di Brindisi, che sono stati numerosi e molto calorosi come sempre. Lo sport è questo, è uno che vince, è uno che perde, ma sinceramente, sai, cioè, non possiamo, io credo che sia anche bello però che ogni tanto si possa gioire di una vittoria, anche fare le congratulazioni ad Avellino per quello che ha fatto. Io non penso che Avellino debba recriminare più di tanto, è un'ottima squadra, è nata da un ottimo allenatore che conosco bene, che è Frank, che conosco da una vita, di cui ho molta stima. sinceramente qua a parlare, ma l'ha perso uno e l'ha vinta quell'altra. È una bella partita, giocata bene, poteva vincere l'uno, poteva vincere l'altra, sinceramente penso che comunque dobbiamo essere contenti di quello che sta facendo la squadra di Avellino, senza stare a pensare che se l'ha persa Avellino. Abbiamo vinto noi, abbiamo giocato bene alla fine, ma questo è lo sport, questa è la pallacanestro. Quindi sinceramente fare processo alla tappa, sinceramente, non me la sento dopo una gara del genere. Anche se fosse allenatore di Brindio e avessimo perso, avrei detto questo, bella partita, ha vinto magari Avellino, però secondo me vi tucci non può che dia una cosa del genere. Faccio i miei complimenti alla squadra, è stata una bellissima partita, pubblico caldo, ma corretto. Secondo me, ripeto, non ci sono processi da fare. Guarda, è un po' quello che dicevo al tuo collega, sinceramente io devo pensare alla mia squadra. Quindi Frank è un ottimo allenatore, di cui ripeto stima, per cui sa perfettamente lui cosa poteva fare e cosa ha fatto e cosa non è riuscito. Non è che per forza è colpa di qualcuno, va fuori un tiro, va fuori il Cavaliero, se questa volta il tiro di Cavaliero va dentro, come ho fatto l'anno scorso, perché abbiamo perso così l'anno scorso, mi sarei suicidato se il Cavaliero fosse fatto un'altra volta il canestro della partita. Onestamente saremmo qua a dire però che brava Avellino. Quindi sai, questo è lo sport, giocata benissimo da entrambe le squadre, alla fine abbiamo avuto un pizzico più di cinismo in più, noi forse se vuoi. Però onestamente non posso mettermi nei panni di Vitucci, non me la sento. Non ho già dato abbastanza, sto a pensare alla mia squadra. Il figuro si mi pensa anche a Avellino. Volevo solamente regalizzare il pubblico di Brindisi e comunque anche quello di Avellino, molto caldo ma corretto. Grazie a tutti, buon anno. Grazie. Grazie. Grazie.